Ora, siccome lui fa trash metal, quello che trova questo volento, così si calma. E poi è apparso a mia sinistra, Raoul Bov. Raoul Bov. Che il nostro benemato... Un grande urdo per lo Stavo, al basso. Per lo Stavo. Ok, questo lentone è per tutti voi, ragazzi. Glory to you. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.